Una piccola scritta dice, Sì, come ti sei per me? Si dice, non entriamo nei cipari, le sorelle sono pericolose, è intelligentissima, sono due lauree, tu mi tieni due lauree a fare. Ma cosa succede? Dopo lei ti risponde, c'è un altro articolo sul giornale. E invece a chi lo ha, non c'è, 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 ma che l'anno, che date un ruota là, ruota, che riceve io, io, teneremo contatti, se ti succede, che è questo. O su Dio. Non so, capito, no? Ma perché ti permette di dire queste cose? Allora io dico, questo, questo, questo sono i banchi, sono i banchi, sono i banchi, sono i banchi, perché? Ignorandoci in stamma stai, no papà, c'è. Grazie a tutti.